Siamo a Palazzo Tuscale oggi per presentare una proposta di legge popolare, una raccolta firme per presentare questa proposta intitolata YouSculture. Di cosa stiamo parlando? Quali sono le caratteristiche di questa proposta di legge? YouSculture è una proposta di iniziativa popolare che ha come scopo quello di riconoscere la cittadinanza italiana ai minori che abbiano effettuato un determinato percorso di studio. Per i dettagli della legge vi esorto ad andare a leggerla completamente sul sito www.comitati.it. Quello che è la peculiarità di questa legge è appunto la scuola al centro, l'integrazione al centro. Quindi una proposta rivolta alle seconde generazioni o a chi arriva qua molto giovane e quindi si inserisce in un percorso di tipo scolastico. Dove è possibile avere più informazioni sulla proposta e dove sarà possibile eventualmente aderire con la propria firma? Sì, la proposta di legge come dicevo è pubblicata su un sito che è quello dei comitati di ritorno al futuro. È possibile già da oggi andare a firmare in tutti i municipi di Genova, municipi di circoscrizione al mattino. In alternativa non si potesse andare al mattino nei municipi, è possibile andare in comune a Palazzo Tursi, quindi in Coppia Garibaldi, oppure all'Anagrafica Centrale in Corso Torino. e logicamente per tutta l'estate faremo eventi, incontri, banchetti, dove anche fuori dai muri istituzionali sarà possibile andare a firmare. Quali sono i tempi che prevedete per la raccolta firme e qual è l'orizzonte, il traguardo al quale arrivare, se c'è già un termine temporale, al quale arrivare pronti con le firme per poter procedere con l'iter? Sì, assolutamente. La proposta è stata depositata il 10 aprile, per legge ci sono 6 mesi di tempo, quindi noi contiamo entro e non oltre il 12 settembre di aver raccolto tutte le firme da portare, quindi speriamo oltre le 50.000 in Parlamento. Assolutamente entro il 12 settembre. Già oggi, già domani mattina andate a firmare. Sarà un'estate di impegno per la raccolta di questi nomi? Assolutamente sì, dobbiamo impegnarci tutti. Il risultato non dipende dalla volontà dei cittadini, perché noi siamo convinti che ci saranno oltre 50.000 persone favorevoli a questa iniziativa. Il risultato dipenderà solo da quanto noi saremo in grado di arrivare a informare i cittadini che c'è la possibilità di andare a firmare. Quindi media, stampa, social, passaparola, aiutateci.